Si vergogni chi ha tolto gli striscioni dalla nostra scuola? È un diritto poter manifestare il proprio dissenso? È un diritto il contraddittorio? Abbiamo il diritto a far sentire la nostra voce? Sono queste le parole forti e toccanti della dirigente Anna Vassallo che ha voluto manifestare il suo pensiero sull'attuale situazione che sta vivendo la scuola Gino Landolfi. Gli striscioni sono stati affissi in questi giorni in seguito a quello che è accaduto che magari spiegheremo successivamente. Voglio solo dire che non rappresentano una protesta nei confronti dell'ente locale ma sono semplicemente la voce della scuola, la voce di chi quotidianamente vive la scuola e ne affronta tutte le difficoltà. Ci sono alcuni messaggi in cui abbiamo anche un po' voluto sdrammatizzare la situazione ma ce ne sono altri con cui invece richiediamo una maggiore attenzione verso determinate scelte che coinvolgono in primis i nostri alunni. I bambini non possono comprendere le scelte e le azioni dei grandi quindi è nostro dovere tutelare il loro diritto allo studio in ambienti di apprendimento che siano adeguati alle loro esigenze e che siano qualificati, efficaci e sicuri. La dirigente Vassallo si sofferma inoltre anche sulla decisione dell'amministrazione comunale a voler realizzare all'interno della scuola dell'infanzia Mozzillo un commissariato di polizia. Siamo a favore della realizzazione del commissariato di polizia, fa sapere la dirigente. Anche noi siamo cittadini di questo territorio e appoggiamo l'azione del sindaco e non ne contestiamo la realizzazione. Abbiamo avuto con il sindaco un confronto nella seduta del 2 aprile nell'aula consigliare in cui erano presenti il consiglio di istituto e alcuni componenti dell'amministrazione comunale e abbiamo discusso proprio dell'eventuale dislocazione della scuola Mozzillo in altra sede. Ora in quell'incontro sono state manifestate in maniera chiara ed esaustiva da me in primis tutte le perplessità relative all'eventuale utilizzazione del plesso Landolfi per la dislocazione degli alunni della Mozzillo. Egli stesso ci avrà rassicurato in quell'incontro del 2 aprile che avrebbe trovato la soluzione più adeguata, più idonea per i bambini della scuola dell'infanzia Mozzillo. Dopo l'incontro del 2 aprile con la dirigente Vassallo, attraverso una delibera digiunta, si è appresa la volontà dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Adamo Coppola di accorpare i plessi scuola dell'infanzia Santa Maria delle Grazie e scuola Anna Mozzillo in un unico polo scolastico nel primo circolo Gino Landolfi. Da qui la reazione della dirigente Vassallo che spiega le motivazioni e il perché non ci siano i presupposti per tale accorpamento. L'aggiunta comunale con delibera 103 del 4 aprile ha deciso in effetti la dislocazione e l'accorpamento della scuola Mozzillo, delle scuole materne Mozzillo e Santa Maria delle Grazie. Il sindaco nella sua recente ultima intervista di ieri si è dichiarato sgomento rispetto alle voci con cui addirittura l'amministrazione comunale penserebbe di chiudere le scuole sostenendo che queste voci non sono assolutamente veritiere. Io devo dire che le parole dislocazione, accorpamento di due scuole in un unico plesso implica di conseguenza la chiusura delle scuole. Quindi se poi vogliamo dare significato diverso a delle parole che hanno un significato chiaro ed univoco allora a questo punto possiamo dire di tutto. È vero la delibera prevede una verifica di fattibilità ma prevede anche che in caso negativo ci siano altre opzioni ovvero di trasferire la sola scuola Mozzillo o nel plesso Landolfi o nel plesso di Santa Maria delle Grazie. Quindi c'è un po' di diciamo di confusione e soprattutto non c'è condivisione rispetto a tutte queste opzioni che noi ritroviamo nella delibera ma vorrei entrare un po' nel merito della delibera 103 pubblicata all'albopretorio il 12 aprile. Come istituzione scolastica noi ci siamo ritrovati a non dover affrontare più una sola problematica cioè quella relativa alla scuola Mozzillo ma a dover fare i conti con la chiusura di un altro plesso scolastico ovvero la scuola dell'infanzia Santa Maria delle Grazie e con la dislocazione di ben nove sezioni di scuola dell'infanzia all'interno dell'edificio Landolfi. Le ragioni adotte dalla giunta comunale sono di opportunità logistica e funzionalità riconducibili anche alla volontà di creare un vero e proprio polo didattico. Probabilmente la giunta comunale ha pensato che aggregare le scuole dell'infanzia con la scuola primaria in un unico plesso al centro della città al centro di tutti i servizi al centro del traffico più intenso e anche dove è ubicata un'altra scuola ovvero la scuola media che accoglie circa 800 alunni potesse avere maggiore funzionalità ma noi ci siamo chiesti e ci chiediamo tuttora funzionalità per chi e funzionalità per che cosa. Si legge inoltre in questa delibera che si vuole favorire lo scambio e l'integrazione che dire è incomiabile il tentativo dell'aggiunta comunale di trovare delle motivazioni che siano anche di natura pedagogico didattica culturale rispetto alle scelte operate ma per quanto ci riguarda sono poco convincenti atteso che nell'aggiunta comunale non ci sono persone di scuola o persone che abbiano maturato competenze o esperienze nel mondo della scuola. Quindi sicuramente io leggo come legale rappresentante di questa istituzione scolastica molta confusione in tutta questa delibera. Un'altra motivazione dell'aggiunta comunale è quella di creare un polo didattico. Anche questa motivazione non risulta verosimilmente fattibile atteso che la parola polo indica un centro di erogazione di servizi diversi che sono finalizzati ad un unico obiettivo e in questo caso parliamo della formazione dei nostri bambini. Al di là di tutto questo è un altro il punto su cui io voglio assolutamente focalizzare l'attenzione ovvero la sede individuata per l'accorpamento cioè l'edificio Landolfi. Ora ricorderemo tutti quanti che l'edificio Landolfi è stato al centro di grandi polemiche all'inizio di questo anno scolastico e che è un edificio che necessita di un'importante di qualificazione antisismica per cui il comune ha anche presentato un progetto. Ma l'edificio presenta anche altre criticità relative all'organizzazione e alla gestione delle emergenze. Accoglie al momento circa 580 persone tra alunni e personale scolastico. Le classi sono dislocate su ben tre piani e manca di certificazione e prevenzione incendi come è stato verificato e verbalizzato dai vigili del fuoco il 27 marzo 2019. I vigili del fuoco hanno addirittura dichiarato di non approvare né autorizzare lo svolgimento delle attività scolastiche nel plesso sia in riferimento al vecchio corpo sia in riferimento al nuovo. Questo verbale è stato inviato al sindaco e al prefetto che sono gli unici organi deputati a prendere dei provvedimenti in tal senso e per conoscenza anche ai dirigenti scolastici delle due autonomie. Ancora voglio fare una precisazione sull'edificio Landolfi. Il nuovo corpo non è autonomo e non è indipendente rispetto al vecchio. Al contrario è collegato ad esso da una scala interna che appartiene al vecchio edificio. Non dispone infatti neanche di servizi igienici autonomi. Il nuovo corpo in effetti come da delibera di giunta comunale 270 del 29 agosto 2013 è stato pensato e realizzato come ampliamento della scuola primaria Landolfi. Nella delibera che ho appena citato non è scritto in nessun rigo che l'ampliamento dovesse servire altre aule, altre scuole, altri alunni se non i bambini della scuola primaria Landolfi. L'attuale giunta comunale con delibera 299 del 7 dicembre 2017 sulla base dei movimenti tellurici che avevano interessato la penisola riteneva necessario realizzare più aule all'interno del nuovo corpo in modo da trasferirvi gran parte delle classi dell'edificio Landolfi. Questa decisione però avrebbe comportato la perdita definitiva dell'aula polifunzionale al piano seminterrato destinata alle attività collettive, cosiddetta palestra. E noi sappiamo bene che già per anni i nostri bambini sono stati privati di questo spazio e che non hanno potuto effettuare nelle attività scolastiche l'educazione fisica. Per cui io stessa ho chiesto all'ente locale di valutare quella delibera e di pensare ad una riorganizzazione e ridistribuzione delle classi della Landolfi che non precludesse ai bambini la perdita di quegli spazi. Questo messaggio diciamo è stato recepito dall'ente locale che con delibera 127 del 22 maggio 2018 decideva di non realizzare più tante aule ma solo quelle necessarie ad accogliere più bambini della scuola primaria Landolfi e di lasciare comunque ai bambini l'utilizzo della palestra tra virgolette. Quindi che cosa abbiamo ipotizzato? Insieme all'amministrazione comunale di mettere più classi al piano terra e transitare gli uffici al primo piano in modo da dare maggiore sicurezza anche per un'eventuale emergenza di evacuazione ai nostri bambini. Quindi questa scelta importante e autenticamente condivisa è stata poi completamente annullata dalla delibera 103. Ci si dimentica questa necessità condivisa di maggiore tutela degli alunni della scuola primaria e si pensa addirittura di trasferire ben nove sezioni di età compresa tra due anni e mezzo e cinque anni all'interno di un edificio di cui lo stesso ente locale aveva evidenziato le criticità. Quindi noi ci chiediamo dov'è la coerenza? Noi come persone di scuola e io in primis come legale rappresentante di questa istituzione scolastica non possiamo entrare, cadere nella dimenticanza oppure restare silenti nello sgomento. Noi abbiamo l'obbligo istituzionale, abbiamo il dovere morale, abbiamo la coscienza civile di difendere i diritti dei nostri bambini. L'ampliamento della Landolfi non può essere considerato la panacea di tutti i mali. Ora non siamo in emergenza, non possiamo e non dobbiamo fare delle scelte che siano poco ponderate e che possano mettere in situazioni di rischio permanente i nostri bambini. Noi vogliamo che l'edificio Landolfi resti la legittima sede dei bambini della scuola primaria e che il nuovo corpo venga utilizzato per dare loro maggiore sicurezza e tutti gli spazi necessari per l'apprendimento, per la socializzazione, compreso lo spazio refettorio che può essere utilizzato per avviare il tempo pieno anche in questo plesso. Questa per noi sarebbe un'azione virtuosa da portare fino alla fine. I bambini dell'infanzia dal canto loro hanno bisogno di avere scuole adeguate ai loro bisogni, arricchite di spazi verdi, di avere delle aree gioco dove crescere insieme, dove divertirsi, di avere spazi sicuri e soprattutto pieni di luce. Con una sola delibera la giunta comunale immagina di cambiare le sorti di ben tre scuole. Non è legittimo, non è rispettoso e non è per noi accettabile. Il sindaco non resti sgomento. Abbiamo il diritto di far sentire la nostra voce, abbiamo il diritto al contraddittorio, abbiamo il diritto al dissenso. Si vergogni chi è corso a togliere gli striscioni dalle nostre scuole, da Santa Maria delle Grazie e dalla scuola Mozzillo. Si vergogni chi lo ha fatto di notte. Veramente questa è una cosa che ci lascia basiti e senza parole. Non è possibile avere paura, perché devo immaginare che si ha addirittura paura della voce e delle parole della scuola. Non abbiamo più diritto di dire la nostra opinione, di esprimere i nostri pensieri, di dire no rispetto ad una scelta pensata, immaginata o reale che sia. Quindi il sindaco non resti sgomento. Esiste una parola magica per risolvere le problematiche. Si chiama pianificazione e nasce dalla rilevazione dei bisogni reali di un territorio, nasce dalle idee, nasce da una visione e da un progetto che devono essere condivisi. E noi siamo sempre aperti alla condivisione, al dialogo e al confronto. Ma quando si vuole raggiungere un obiettivo, ovvero il miglioramento. Quindi adesso la scuola, il primo circolo Gino Landolfi, che cosa farà nei giorni a venire, per quanto riguarda questa situazione? Faremo tutto quello che possiamo per i bambini di questa città, per la scuola, per la cultura, su cui oggi più che mai si dovrebbe investire. Come giustamente dice un genitore di un'alunna di questa scuola, la scuola è la casa del sapere e il sapere, la conoscenza, la cultura, sono ancora oggi gli unici strumenti per conquistare la libertà e la dignità. E voglio concludere dicendo una cosa importante che forse ho dimenticato di dire. Il potere deliberante rispetto ad un'eventuale riorganizzazione della rete scolastica, quindi parliamo di chiusura, soppressione, accorpamento, eccetera, è di competenza esclusiva della regione e non dell'ente locale.